Questa edizione apparentemente smart, quindi molto più concentrata, ci sta dando i risultati già dalle prime ore, i risultati sperati. Abbiamo molti più espositori degli anni precedenti che abbracciano un po' tutte le categorie della sostenibilità ambientale. La green economy è un'evoluzione velocissima in termini di finanziamenti disponibili, di normative, di sviluppo delle tecnologie. Quindi qui ad EnergyMed è possibile aggiornarsi, i professionisti e le imprese possono aggiornarsi sulle novità del settore. È possibile anche per i semplici cittadini e curiosi capire perché si sente sempre più parlare di un clima impazzito per una cattiva gestione dell'energia e della mobilità. E qui possono trovare impianti di climatizzazione efficienti, pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica dal sole in modo pulito. E' quello che abbiamo fatto insieme al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico è mettere insieme i fondi, che sono tanti, strutturali, che possono andare dalle colonnine per le auto elettriche, alla mobilità sostenibile, all'incentivazione, agli incentivi ovviamente per gli autobus elettrici. Tutte cose che, tutti i risultati che i cittadini vedranno da qui a breve.